Senti, questo è per no. Si parte allora con i Puleidri di due anni, uno Eregno Mais, due Extra Mile Run, tre Lettra GV, cinque Etika Jet, sei LSM, sette Ester ZS. In seconda fila, otto Etna, tre B, nove Edovica SM, dieci Erika Cass, undici Esperanza Laksmi, dodici Empati Gioiese, tredici Eccitante Gall. Prima corsa in programma, qui alla Favorita di Palermo, in pista Puleidi di due anni, non vincitore di 5.000 euro in carriera, favori al gioco per il numero 5 Etika Jet, stacco della macchina, si parte, si parte con Etika Jet che prova a mantenere il comando, ma dall'esterno sembra preposterante lo scatto iniziale della debuttante sulla pista estera. Numero 2 è squalificato. Nel frattempo c'è l'errore, la squalifica per Extra Mile Run. È riuscito Massimo Zanca a togliere il comando delle operazioni ad Etika Jet, in terza posizione si è sistemato Andrea Busitta con LSM, quindi tre dei più attesi in avanti, mentre c'è l'errore anche per Alettra GV. Primi 400 metri in 33 da 1 e 16 scarsi, con Esther ZS a dettare i tempi, passaggio davanti le tribune, in seconda posizione c'è sempre Etika Jet, poi LSM, ed i primi 600 metri vengono raggiunti in 47, quindi rallentamento sulla retta delle tribune per la capofila Esther ZS 16 e 7 il parziale, quindi ha preso in mano Massimo Zanca, prova adesso a venire avanti da dietro il numero 9 Dovica SM, gara comunque difficile, 1-3-2, da 1-19 virgola i primi 800 metri di Esther ZS che sembra molto bene in mano a Massimo Zanca, Etika Jet comunque è lì, in scia, leggermente disposta in terza posizione LSM, 1-18-8 il primo chilometro con situazione invariata, adesso è Ella che prova a venire avanti, fa lo stesso Etina 3B in terza ruota, anticipati tutti rapidamente da Etika Jet che se la vuole giocare da favorita fino in fondo, quindi le quattro più attese sono là davanti a disputarsi il successo con Esther ZS che appare in calo, scavalcata da Etika Jet che però deve difendersi da LSM a contatto anche Etina 3B e allora andiamo alla rete d'arrivo dopo 34 negli ultimi 400 metri con Etika Jet che prova a difendersi dall'attacco di LSM ma LSM insiste, LSM insiste e sul traguardo è LSM che viene a vincere nei confronti di Etika Jet, 2-4-4-1-17-8 avevamo detto in presentazione che l'unica ad essere appoggiata al gioco a quota fissa era stata proprio LSM, l'unica di cui la quota era calata, beh i scommettitori ci hanno visto giusto, LSM con Andrea Buzitta insediolo, il training di Antonino Porzio viene a vincere mentre per il terzo posto emerge Gaspare Loverde con la sua Etina 3B che relega al quarto posto l'iniziale battistrada Esther ZS, media come detto di 1-17-8 per LSM, i colori sono quelli della scuderia del Baronetto, il tempo 1-17-8 in numeri dunque 6-5-8, l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della prima corsa di Palermo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!